Allora buonasera a tutti benvenuti sul mio canale io sono Penelope e questa sera interrogerò le mie carte ho deciso di usare i miei meravigliosi tarocchi e chiederemo loro troverò l'amore quindi questa è una stesa interattiva dedicata a tutti o tutte coloro che sperano si augurano aspettano desiderano un nuovo amore un nuovo amore o il ritorno anche di un amore passato non so io ho lasciato le carte libere di poterci comunicare quello che meglio credono quindi ho già meschiato le le carte ho già posto a loro la domanda allora se avete fatto la vostra scelta andiamo quindi adesso a vedere cosa ci rispondono le carte partiamo dal primo mazzetto quello della cicogna un attimo i due mazzetti e vediamo la cicogna cosa ci racconta allora cavaliere di bastoni dieci di spade capovolto imperatore allora diciamo che diciamo che avete proprio voglia di un cambiamento di cambiare completamente dare una svolta proprio una sterzata alla vostra vita quasi sicuramente qua state uscendo da una chiusura qua mi da una sofferenza che avete l'avete affrontata eh ma da bene l'avete affrontata la state affrontando qui c'è voglia proprio di cambiare completamente cambiare aria cambiare proprio il senso alla nostra vita voglia di libertà voglia di cambiamento voglia di rimettersi in gioco voglia di riprendersi quasi certamente da un grande da un grande dolore quindi qua mi verrebbe da pensare che stiamo uscendo diciamo così abbiamo chiuso una storia e stiamo uscendo da un periodo molto molto triste cupo della nostra vita allora dunque qua è molto molto probabile che durante un viaggio durante un viaggio durante un vostro spostamento magari non so per lavoro penso a rappresentanti penso a una hostess che lavora qualcuno che lavora che so in aeroporto piuttosto che anche un viaggio adesso che siamo quasi a luglio un viaggio proprio per per le vacanze no ecco quindi diciamo che durante un vostro spostamento che potrebbe essere come dicevo per lavoro per vacanza un trasferimento vero e proprio di casa ecco durante uno di questi spostamenti vedo la possibilità della conoscenza con questo con imperatore un uomo tutto d'un pezzo quindi non un ragazzino ma un uomo un uomo fatto diciamo così persona con cui potrete vivere un momento magico proprio un un cogli l'attimo diciamo visto e preso dall'altro 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 lato ovviamente capirete che essendo carte così veloci non mi parlano ancora di una storia costruita anche se l'imperatore sinceramente fa ben sperare una figura solida concreta ferma realizzatrice no non è un uomo non è un uomo così però però avendo un cavallo avendo una una carta che mi parla di piccolo vantaggio di una piccola soddisfazione un qualcosa da cogliere al volo in tutta velocità ecco mi farebbe più pensare a come diceva un discorso che può durare diciamo così non voglio dire l'arco di una serata di una giornata però ecco diciamo non andiamo subito a pensare alla storia della nostra vita o al matrimonio però visto il momento come dicevamo che stiamo passando di bisogno proprio di cambiamento di lasciarsi alle spalle qua qua ci stiamo lasciando qualcosa alle spalle noi che ci ha fatto tanto tanto male questo potrebbe essere il classico come posso dire chiodo scaccia chiodo allora eccoci qua al risponso per la nostra cucinella vediamo cosa ci dice 8 di bastoni capovolto 8 di coppe capovolto fante di spade allora qua anche qua parliamo di cambiamenti ma più che cambiamenti proprio repentini sono più trasformazioni quindi un qualcosa che c'era che va a cambiare allora qua sicuramente ci sentiamo molto molto arrabbiati molto molto delusi e molto molto soli in cuor nostro c'è voglia di recupero voglia di rimettersi in gioco ma diversamente dall'altra stesa qua ci si aspetta più un riprendere fila un risistemare ciò che già avevamo sicuramente c'è stata una rottura una rottura molto 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 dolorosa molto brutta improvvisa e veloce un litigio parecchio forte qui sono volati proprio i bastoni e in cuor nostro speriamo tanto di riuscire a recuperare insomma vorremmo far pace con il nostro il nostro amore diciamo così che sia uomo o che sia donna anche se anche se ci fidiamo poco sinceramente qua un po' di rancore scusate ancora c'è e quello che stiamo facendo in questo momento è star lì ad attendere il ritorno di questa persona amata quindi qui c'è stata una rottura una rottura un litigio molto forte con questo cambiamento appunto negativo e si spera siamo lì ansiosi in trepida attesa che il nostro amore torni a farsi vivo con noi e torni insomma per riappacificarsi beh devo dirvi che da queste carte sicuramente questo accadrà ebbene sì 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 come dicevo c'è stata una una rottura quindi qui una coppia c'era una coppia che è scoppiata avete litigato c'è stato un litigio molto molto forte però da come dicono i miei tarocchi per appunto il mazzetto della coccinella qui c'è la riappacificazione c'è il recupero addirittura la persona potrebbe tornare chiedendovi scusa quindi chiederà chiederà il vostro perdono voi inizialmente sinceramente sarete un po sul chi va la vi fidate vi fidate il giusto non so cosa vi sia stato fatto ma questi sono i vostri sentimenti si vedono chiari quindi guardate bene diciamo così quando la persona tornerà a farsi viva perché lo farà lo farà qui c'è proprio il ritorno il ritorno di questa persona ripeto ribadisco sicuramente qualcosa di male ve lo fatto perché vi porgerà le proprie scuse chiederà scusa e vedo voi vedo voi sul chi va la che insomma sarete un po un po così quindi c'è questa attesa nervosissima nevrotica siete molto in ansia siete lì che aspettate perché non gliela volete dar vinta ma al momento in cui la persona tornerà sarete in ansia peraltro diciamo noi in ansia gli credo non gli credo ecco comunque sia questo è per voi il risponso quindi vedo in questo mazzetto in queste carte il ritorno di qualcuno con cui avevate chiuso con cui avevate avuto un brutto litigio eccoci qua il leone vediamo cosa ci dice leone se troveremo l'amore quattro di coppe capovolto fante di coppe capovolto e il carro allora qua diciamo che siamo arrivati a un punto di non ritorno nel senso che c'è molta stanchezza molta noia siamo stanchi siamo stufi abbiamo voglia di di cose nuove di un po di pepe diciamo così anche peperoncino forse nella nostra vita c'è una situazione che si sta trascinando da molto tempo non so chi di voi è sposato magari a una relazione una convivenza un matrimonio di lungo corso che ormai sinceramente comincia a essere un po così diciamo che abbiamo voglia come dicevo prima di un po di zenzero un po di pepe nella nostra vita abbiamo voglia di novità anche se siamo un po come dire sai quando non siamo più abituati no a vivere nel mondo fuori esterno ma abbiamo vissuto di abitudini di del nostro focolare come dicevo chi magari ha o ha avuto una relazione di lungo corso e deve riaffacciarsi a un qualcosa di nuovo no a nuove conoscenze eccetera si sente un po insicuro non si sente proprio a proprio agio ecco però c'è la voglia ad andare avanti c'è la voglia di uscire da questa noia da questa melma no così come ci dice il carro c'è voglia di andare avanti di guardare cosa c'è fuori da quella porta da quella nostra casa da quel nostro guscio quindi le carte ci dicono in definitiva che rispondendo alla nostra domanda se troveremo l'amore ci diranno assolutamente sì quindi preparatevi allacciate le cinture perché queste sono carte veramente veramente belle devo dire che parla la stesa tutta mi parla di una persona nuova quindi una nuova conoscenza che potremmo fare che potremmo fare conoscenza che nascerà innanzitutto da un discreto feeling sapete con quelle persone che conosci che dici caspita mi sembra di conoscerti già da tanto tempo no ok persona che sarà molto come dire molto passionale molto wow ma anche molto molto dolce molto carina molto lusinghiera anche un po scusate la parola un po paracura quindi occhio perché tende ad adularvi accorteggiarvi perché sarà molto 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 preso da da voi quindi queste sono carte veramente veramente belle vi vedranno un po indecisi un po in imbarazzo un po timidi un po così però riuscirete a superare tutto tutto alla grande insomma ecco questo carro come dicevo ci porterà ci porterà in mete lontane potrebbe essere benissimo anche in questo caso che conosciate incontriate la persona durante un viaggio durante uno spostamento vostro o della persona stessa potrebbe essere la persona che viaggia che viaggia per lavoro per vacanza anche ecco eccetera eccetera quindi insomma risponso molto molto bello novità molto eccitanti che arrivano arrivano dopo diciamo così la nostra decisione di scrollarci di dosso la vita un po monosona che abbiamo fatto no un po questa vita che ci ha stancato ecco quindi direi carte veramente veramente belle poi ho visto data la la conferma questa è una storia che potrebbe andare avanti anche nel tempo è non credo che sarà una cosa così dallo spazio di un mattino o di una sera diciamo così quindi carte veramente veramente belle allora amici amiche io ho concluso abbiamo visto con i miei adorati tarocchi che hanno risposto alla nostra domanda troverò l'amore arriverà l'amore nella mia vita ciao ciao